A Castellisangro i consiglieri comunali di opposizione accolgono la proposta del PD per contrastare il disegno di autonomia differenziata delle regioni. L'opposizione ha deciso di sostenere la mozione da presentare in Consiglio Comunale per dire no ad un progetto definito scellerato e che aggraverebbe pericolosamente le distanze tra nord e sud. La mozione è stata presentata in conferenza stampa da Francesco Piacente, segretario provinciale di L'Aquila del Partito Democratico, e da Gaetano Biasella, segretario del circolo del PD comunale, e Alfredo Fioritto, Daniele Marinelli e Diego Carnevale, consiglieri di progetto comune a Castellisangro. Si scrive autonomia differenziata ma si legge secessione. La Lega Nord al Governo, grazie alla connivenza dei 5 Stelle che si sono annullati su questo progetto come su altri, sta portando a compimento il suo progetto originario di divisione del Paese. Siamo ferocemente contrari a questo progetto di secessione mascherata, come dicevo, e stiamo portando in tutti i consigli comunali, grazie ai nostri consiglieri e ai nostri sindaci, una mozione contro questo progetto di autonomia che uccide l'Abruzzo, uccide il centro-sud, prevede tagli e una spereguazione gravissima che alla fine sarà un taglio ai servizi e ai diritti dei nostri concittadini. Siamo pronti anche a fare nostre proposte, le faremo nel futuro, ma oggi è il giorno della battaglia, oggi dobbiamo rispondere all'allarme di non far passare questa riforma che sarebbe una sciagura per il nostro Paese. Abbiamo deciso di farlo anche a Castellisangro perché siamo convinti che serva aprire un dibattito e una discussione su questo tema, e siamo anche convinti, diciamo, ci attendiamo che l'intero Consiglio Comunale voglia aderire ad una proposta che è una proposta di buonsenso, che appunto dice che nessuna forma di autonomismo regionale è possibile senza riconoscere appunto i livelli essenziali delle prestazioni per i cittadini. Siamo convinti e certi appunto che intorno a questa proposta, che è stata portata dai consiglieri comunali del nostro gruppo in Consiglio Comunale, ma che è stata sollecitata dai partiti politici, dalle associazioni, dalle forze sociali, siamo convinti che intorno a questa proposta ci possa essere un consenso unanime in Consiglio Comunale, per cui poi tutti i consiglieri comunali e il sindaco in tutte le sedi possano appunto portare la forza di questa deliberazione, di questa mozione unitaria, auspichiamo, del Consiglio Comunale di Castellisangro.